La scelta dell'argomento deriva da un'esperienza passata a Londra circa un anno fa, grazie alla City University of London e da una curiosità personale per il tema della traduzione audiovisiva. Il seguente lavoro, dunque, tratterà le tematiche della traduzione audiovisiva con maggiore attenzione sulla sottotitolazione intralinguistica per non udenti e sull'audiodiscrezione per non vedenti. Ho pensato di schematizzare il lavoro in quattro parti. La prima parte è una presentazione della traduzione audiovisiva con le relative tecniche di trasposizione, i protagonisti della traduzione audiovisiva e le varie soluzioni e forme di traduzione audiovisive. La seconda parte si concentrerà sul tema della sottotitolazione in cui verranno esaminate le caratteristiche principali, lo scopo dell'utilizzo dei sottotitoli e l'ausilio per disabili. Nella terza parte si analizzerà il mondo della sordità con una focalizzazione alla tecnica di sottotitolazione intralinguistica per non udenti. La quarta ed ultima parte attraverserà la tematica della cecità con riferimenti specifici ad alcuni tipi di cecità, ai diversi programmi che vengono utilizzati per audiodescrivere e per sottotitolare ed infine un preciso riferimento alla tecnica più importante che è l'audiodescrizione. La competenza linguistica svolge quindi un ruolo di primaria importanza, in quanto è indispensabile per usufruire dei prodotti audiovisivi di ogni nazionalità e per comprendere il significato dei testi che questi nuovi prodotti incorporano. È sorta così una nuova esigenza, ovvero quella di abbattere qualsiasi tipo di barriera, linguistica, culturale ma anche sensoriale, che impedisca una piena accessibilità e fruibilità dei prodotti distribuiti per mezzo delle tecnologie audiovisive e multimediali ad un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo in termini di età, sesso, livello, capacità ricettive, lingue e cultura. In conseguenza di tale fenomeno ha assunto un'importanza cruciale la dimensione culturale, linguistica e traduttologica. Esistono due tipi di servizi di accesso alla televisione per sordi, l'interpretazione in lingua dei segni e la sottotitolazione. L'interpretazione in lingua dei segni avviene tramite un interprete che compare su una parte dello schermo diviso in due o in una finestra in basso che occupa una piccola parte dell'immagine. Si tratta purtroppo di un servizio ancora poco diffuso in Italia, malgrado le richieste. Per la precisione, solo alcune edizioni ridotte del telegiornale vi fanno ricorso. I sottotitoli per non udenti non sono impressi in modo permanente nell'immagine e non sono, quindi, visibili a tutti i telespettatori, ma sono attivabili o disattivabili a scelta mediante un tasso del telecomando, essendo fondamentalmente destinati ad un pubblico specifico. La sottotitolazione intralinguistica rappresenta oggigiorno un supporto essenziale per un numero inestimabile di sordi. Si rivela altresì importante per altre categorie di persone, come ad esempio gli anziani, molto spesso vittime di una riduzione dell'udito, gli immigrati che non padroneggiano la lingua del paese di arrivo o i bambini che imparano a leggere. In Italia, l'audiodescrizione è una tecnica relativamente recente che consente di rendere accessibili alle persone cieche o ipovedenti prodotti audiovisivi quali film, fiction, documentari, show televisivi, ma anche eventi sportivi, spettacoli teatrali e manifestazioni religiose. Consiste nella creazione di una traccia audioaggiuntiva che esplicita tutti gli elementi visivi a cui la persona ipovedente o non vedente non può avere accesso, quali costumi, setting, colori, espressioni facciali, caratteristiche fisiche ed azioni. Solitamente l'audiodescrizione viene inserita all'interno delle pause non pertinenti tra le battute dialogiche del prodotto di riferimento, ma non devono mai sovrapporsi agli effetti sonori e musicali. Possiamo sintetizzare il processo di audiodescrizione di un film attraverso le seguenti tappe. 1. Prima visione del film da audiodescrivere da parte di un team di audiodescrittori. 2. Analisi del film, scena per scena e discussione di quali momenti richiedano l'ausilio di un audiodescrizione. 3. Realizzazione di una bozza dell'audiodescrizione. 4. Visione del film e rielaborazione dell'audiodescrizione. 5. Realizzazione dell'audiodescrizione definitiva. 6. Registrazione dell'audiodescrizione da parte di un attore professionista. 7. Montaggio audio. 8. Verifica dell'audiodescrizione da parte di un professionista non vedente appartenente ad un altro team. 9. Realizzazione dei media necessari alla distribuzione, come DVD-MP3. Dal momento che l'oggetto di questo lavoro sono state due tecniche fondamentali, è stato anche necessario definire il ruolo del traduttore come re-scrittore, reinventore e ricostruttore di senso, ossia come colui che conferisce nuova vita all'originale. Chi opera una traduzione audiovisiva non compie una semplice traduzione linguistica, ma una vera e propria traduzione culturale che richiede una precisa formazione, in quanto effettuare una corretta operazione della sottotitolazione significa padroneggiare il contesto metalinguistico dei generi comunicativi della società oggetto di studio e trasferirli senza impoverirli o fraintenderli. Da tutta questa serie di analisi si comprende come il traduttore audiovisivo, per ottenere una traduzione soddisfacente, debba superare numerosi ostacoli. Ecco perché è tenuto ad impiegare tutta la propria creatività, così da trasmettere correttamente e senza fraintendimenti il messaggio di partenza. Le traduzioni devono offrire soluzioni creative e fedeli rispetto ai dialoghi originali e lasciare inalterati i riferimenti culturali, al fine di rendere lo spettatore partecipe della realtà altra rappresentata.